Nell'aula magna del seminario Vescovile l'associazione Two Group Pistoia ha realizzato un nuovo appuntamento con le sue conferenze in musica, esperienza che arriva al terzo anno. Ospite dell'incontro, Anna Borgia, psicopedagogista, fondatrice dell'Università delle Mamme e dei Papà, un progetto avviato nel 2010 con l'obiettivo di educare i genitori a educare. Perché oggi c'è bisogno di dare sicurezze, di dare certezze, poche ma funzionali e i genitori devono avere gli strumenti per la loro missione più importante, educare le nuove generazioni. L'idea di educazione può essere anche associata a una sorta di costrizione, spesso la scuola finisce poi per reprimere anche quelle che sono le cose più belle che i bambini vi portano, questo come può essere evitato? Sicuramente una delle più grandi infelicità dei bambini è di non avere limite, è il senso del limite che crea la possibilità alla persona di crescere, per cui l'educazione deve dare questo senso del limite per cui veramente si sviluppa poi la personalità del ragazzo. Per cui la costrizione non è tanto per opprimere ma è per aiutare a trovare una strada, dunque la pedagogia positiva non negativa, più sì che no, sì puoi fare anche questo, sì sei capace di fare anche questo, per cui solo attraverso il positivo si arriva all'educazione. Per Aspera ad Astra, strategie motivazionali per un grande risultato è stato il titolo della conferenza a Pistoia della dottoressa Borgia. Per grandi obiettivi ho bisogno di grande sostegno, come se voglio alzare un tavolo ho bisogno di una leva molto importante, ecco quali sono le leve del nostro agire, cos'è che ci fa muovere, le leve motivazionali, i motivi perché facciamo le cose. Per cui insegniamo ai genitori che esistono due tipi di motivi, motivi interni e motivi esterni, che funzionano in modo differente. Le motivazioni interne sono quelle che reggono l'educazione, quelle esterne sono quelle che possono dare un piccolo aiuto ma che non funzionano in maniera efficace. Per cui insegnare qual è la motivazione interna che può muovere un'azione, credo che questa sia la cosa essenziale. Grazie Grazie